L'ex di turno è Tommaso Cancellotti, Castellammare o meglio il Menti, uno stadio che conosci benissimo. Quale deve essere la forza del Pescara domenica? Sì, ho giocato tre anni, sono stati tre anni importanti per me. Sicuramente conosco bene la piazza, è una piazza dove c'è calore, se va bene la squadra è entusiasmo e sicuramente bisognerà fare breccia su questi piccoli elementi, ovvero provare ad andare lì e cercare di fare la partita perché come ho detto prima la Juve Stabia è una piazza che ti dà molto ma ti può anche togliere in momenti di difficoltà se non sei magari emotivamente pronto a reggere un attimo l'ambiente. Ovviamente noi bisognerà essere concentrati e fare le cose che il mister ci dirà in questo ultimo tratto della settimana. Dieci partite, chi le ha giocate tutte dieci senza mai uscire un minuto è Tommaso Cancellotti, eppure a giugno il tuo nome era tra quelli che dovevano lasciare Pescara. Come la sta vivendo? Sì, guarda, come ho detto ho sempre fatto poca attenzione alle voci dell'uscita perché personalmente mi sono sempre sentito vicino a Pescara quindi mi sono rimboccato le mani, ho trovato un grande staff, ho trovato un grande gruppo di compagni che mi hanno aiutato e forse a ritrovare tanto entusiasmo e la voglia di dare il mio contributo al Pescara e quindi sono veramente contento. Ma stai già parlando di rinnovo con la società? Guarda, onestamente in questo momento sono concentrato più sul campo, poi sono convinto che se il Presidente valuterà che ci sia la possibilità di rinnovare, rinnoverremo. Grazie.